Nella settimana appena trascorsa le forze dell'ordine hanno assicurato i controlli su tutto il territorio della provincia di Salerno per prevenire gli assembramenti in strada e i comportamenti dannosi per la salute pubblica e soprattutto per contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Il piano di intervento ha permesso di controllare oltre 8.200 persone, oltre 2.200 esercizi pubblici. Sono 247 le persone sanzionate ancora per il mancato utilizzo della mascherina, 23 i titolari di esercizi commerciali sanzionati per mancato rispetto della normativa anti-covid, di cui 4 con la sanzione accessoria della chiusura dell'attività. In particolare a Battipaglia è stato sanzionato un pub che somministrava bevande alcoliche in bottiglie di vetro durante la serata, ben oltre le ore 18, a numerosi avventori lì assembrati. In particolare l'attività commerciale è stata sanzionata con la misura della chiusura per 5 giorni. Sono stati identificati e sanzionati anche 22 avventori, destinatari di altrettante sanzioni individuali. È doveroso segnalare, spiega una nota della questura di Salerno, che resta essenziale che ognuno si comporti con assoluta prudenza, rispettando la normativa della zona di riferimento per la Campania, da oggi la zona rossa. Si ricorda, aggiunge la questura a tutti, di osservare le misure di contenimento, tra cui quelle relative agli spostamenti. In zona rossa è vietato ogni spostamento in entrate e in uscita dai comuni e anche all'interno dello stesso comune, salvo che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze. In merito proprio alla zona rossa, il responsabile dell'unità di crisi della regione Campania chiarisce perché la zona rossa è stata applicata per l'intero territorio della regione Campania. Italo Giulivo infatti spiega che la zona rossa è stata disposta con ordinanza del Ministero della Salute, in ragione di parametri adottati a livello nazionale ed applicati per le singole regioni. Peraltro, aggiunge Giulivo, come da noi stesso sostenuto più volte, l'applicazione di misure rigorose anche in zone che presentano indici di contagio inferiore ad altre risponde ad un'azione di utile prevenzione perché la diffusione si è contrastata prima di interventi che risultino adottati in modo tardivo, anche in considerazione della maggiore trasmissibilità delle varianti.